Ike Schmidt rimarrà direttore delle Gallerie degli Uffizi per i prossimi quattro anni. Il ministro dei beni culturali e turismo Dario Franceschini ha firmato i decreti che rinnovano l'incarico per i direttori dei musei di prima fascia, tra cui appunto Schmidt. Autonomia e qualità dei direttori, ha commentato Franceschini, è un mix vincente per il sistema museale italiano. Immediata è stata la reazione di Schmidt, che si era già candidato alla riconferma a inizio ottobre, rinunciando all'impegno che aveva con il Museo di Storia dell'Arte di Vienna e suscitando il fastidio del ministro austriaco Schallenberg. Sono davvero entusiasta di poter continuare a lavorare per gli Uffizi e per Firenze, ha commentato il direttore, il cui mandato scadeva a fine ottobre. «Questi quattro anni alla guida delle gallerie sono stati incredibili, pieni di meraviglia, di sorprese e di obiettivi da raggiungere. Le cose da fare, dice ancora Schmidt, sono tante, ma posso contare su collaboratori eccezionali e per quanto mi riguarda darò come sempre tutto me stesso per rendere gli Uffizi il museo più bello del mondo, anche se già lo sono». Schmidt non ha mai fatto mistero della sua volontà di rimanere a Firenze, soprattutto negli ultimi tempi. Così spiegava la sua scelta alla rivista tedesca Der Spiegel qualche giorno fa. «Dopo i recenti sconvolgimenti politici in Italia, aveva detto, vedo ora un'opportunità di portare ulteriormente avanti il rinnovamento degli Uffizi». E il cambio di governo non ha avuto conseguenze solo su Schmidt. L'ex ministro Bonisoli aveva tolto al Museo di San Marco e all'Accademia la loro autonomia accorpandoli agli Uffizi. Adesso con Franceschini San Marco ha riacquistato la sua autonomia, mentre l'Accademia, sempre che non cambi qualcosa, lo farà a dicembre. Nel frattempo al David ci penserà Ike Schmidt.